Oggi è la ripartenza anche di questa gara, di questa manifestazione, ricordando anche il cinquantesimo della morte di Angelo Bergamonti. Speriamo che sia veramente una ripartenza che nessuno ci fermi più. Sì, per noi familiari è sicuramente un'emozione il fatto che il nostro comune, il motoclub, l'amministrazione continuino a mantenere questo ricordo sempre vivo e in quest'occasione del cinquantesimo in modo particolare perché è un rinnovare a distanza di tanto un ricordo e tenere vivo il papà per sempre. I primi tre partiranno le 10.00 e per cui fino alle 11.59 ci saranno le partenze, dalle 12.00 inizierà il secondo giro tramite il controllo orario. Grazie a tutti. La prima gara a cagare il carro. No, quando la parita aveva diceva che si muove, ma non c'è. No, quando la parita aveva diceva che si muove, ma non c'è. No, quando la parita aveva diceva che si muove, ma non c'è. No, quando la parita aveva diceva che si muove, ma non c'è. No, quando la parita aveva diceva che si muove. No, quando la parita aveva diceva che si muove, ma non c'è. No, quando la parita aveva diceva che si muove, ma non c'è. Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok